apri una serratura con una chiave e una cassaforte in una sola partita allora vi consiglio di atterrare a bobine brulee in rissa squadre aprite i forzieri fino a quando avete trovato due chiavi poi andate su questo cavo che è un cavo di alta sicurezza dove avete bisogno di due chiavi aprite il cavo quindi avete già completato la prima parte dell'incarico e nel cavo di alta sicurezza trovate sempre una cassaforte adesso come vedete aprite la cassaforte e avete completato l'incarico